SONO INIZIATI NELLA MATTINATA SONO iniziati nella mattinata presso di sabato 29 giugno i lavori di demolizione della passerella pedonale in legno che attraversa la circonvarazione di Rivarolo Canavese. Costruita nel 1998 dall'amministrazione Gaetano con intenzione di collegare il castello Malgrà all'Orco, creando poi una revitalizzazione dell'area diacente al torrente, non è mai stata utilizzata. Nel tempo le asse in legno si erano deteriorate e alcuni vetri rotti. Durante lo scorso mandato allo stagno era stata messa in sicurezza. L'incidente dell'altro ieri ha danneggiato ulteriormente la struttura, ormai deteriorata. Unanimi pareri dei tecnici della città metropolitana e dei vigili del fuoco, l'unica soluzione possibile era batterla. I lavori iniziati stanno procedendo abbastanza velocemente, tanto che la circonvarazione, che era stata chiusa per sicurezza, potrebbe essere riaperta prima della tarda serata, dietro l'autorizzazione della città metropolitana. Un appunto dopoardi di iniziato a bloccionare e integrante divinaна. Un personaggio Lenzonco "... il suoенно dopo gli aspetti di circacazione mapportizzazione della città metropolitana per fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.